Con ordinanza emessa in dato di Erna, la Corte d'Appello di Catanzaro ha revocato la custodia cautelare applicata nei confronti di Domenico Riillo, di Isola Capo Rizzuto, imputato di partecipazione associativa mafiosa nel processo Johnny e nel processo Chiterior, tra di loro intimamente collegati. Così decidendo la Corte Catanzarese ha accolto in pieno le istanze difensori del Riillo. Parliamo dell'Avvocato Luca Cianferoni, l'Avvocato Tiziano Saporito e l'Avvocatessa Mara Campagnolo, incentrate sia sul venir meno delle esigenze cautelari che anche sulle esigenze di salute dell'imputato, secondo i dettami della Corte Europea.